Il treno servizio ferroviario metropolitano, linea 6.46.15 di Trenitalia, proveniente da Astrid e diretto a Domini Stupac, delle ore 11.13 e in arrivo al binario SEM. Attenzione all'ontanarci dalla Ligia Già, ferma in tutta l'estazione. Attenzione! Avvisiamo che dal 14.9 di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiazione straordinaria che ne comporterà i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Il treno servizio di Trenitalia sarà interessato dalla notte di mangiare i nomi di Trenitalia. Atenzione a l'organizzazione della linea larga. Firmato, presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.